Oggi c'è stata una conferenza dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, era presente anche il nostro Filippo Longarin, sindaco di Livorno, sentite pure che cosa ha ascoltato oggi. Abbiamo appena assistito a un intervento dell'assessore regionale Saccardi sulla nuova regge regionale e devo dire che a caldo abbiamo subito la necessità di comunicare con tutti i cittadini, con la rete, perché qualcosa veramente non ci torna. Non si capisce veramente come sia possibile sentire parlare l'assessore regionale di un processo di privatizzazione della sanità, queste sono state le parole esatte che sono state dette, per mantenere i servizi al cittadino, quando in realtà un'analisi obiettiva di quello che in qualche modo è stato l'incremento del fondo alla sanità, che è passato negli ultimi dieci anni da 50 miliardi di euro a 111 miliardi di euro, senza aver di fatto visto un miglioramento di quello che è il servizio sanitario, un pessimo servizio che non ha visto la riduzione delle liste di attesa, non ha visto investimenti che siano diretti ad esempio alla forza lavoro. Da questo punto di vista sentire questa affermazione che è stata appena fatta, nella quale proprio lo ridico testualmente, si dice che è iniziato un processo di privatizzazione, perché non c'è più sussistenza economica e questo è necessario per garantire i servizi al cittadino, noi veramente non lo possiamo accettare, e quindi è necessario che contrastiamo questo tipo di riforma con ogni mezzo che abbiamo a disposizione. Come avete sentito la Saccardi finalmente ha messo a fuoco ciò che sembrava assolutamente sfocato in questi mesi. Negli ultimi mesi infatti ci raccontava che il grosso del sussidiarietà rispetto a un sistema pubblico della sanità, che non ce la faceva più, sarebbe stato affidato alle associazioni di volontariato della Toscana. Oggi ha chiaramente definito il campo di intervento, sarà quello della privatizzazione. Verso questa direzione ormai si sta andando da anni in maniera manipolativa con truffe semantiche, ci dicevano che non era così, in realtà oggi finalmente ha chiarito il punto, il pubblico non ce la fa, privatizzeremo il tutto. Si va verso un aumento di liste d'attesa, si va verso un aumento di etichette sanitari, si va verso una riduzione di posti letto e questo chiaramente è un bel disegno dal nostro punto criminogeno che ucciderà il servizio pubblico a favore del privato.